Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la ferle plus valence! Iscrivetevi al canale, un bel like al video, i vostri commenti, la campanella per essere raggiunte e raggiunte ovunque voi siate. E allora, mentre sul campo la Fiorentina batte 1-0 l'Atalanta nella gara di andata che vale l'altra semifinale di Coppa Italia, dall'altra parte del tabellone dove noi aspettiamo la gara di torno dopo aver battuto Lazio per 2-0, e quindi vediamo quale sarà se noi passiamo la nostra futura avversaria, la Fiorentina vinti 1-0 e domenica c'è Juventus-Fiorentina di campionato. La prova del nove, perché non basta vincere con la Lazio in Coppa Italia col gol di Dugian e di Fede, bisogna ripetersi in campionato per vedere se questa squadra, la reazione, la continua, se dà continuità. Bisogna operare sempre con continuità di rendimento e di risultati, così come dal punto di vista monetario bisogna operare di continuità nel tempo, altrimenti poi arriva il momento in cui ci si ferma e bisogna mettere a posto i conti. Cosa che la Juve ha fatto e nonostante tutto si è beccata ai famosi finali dopo l'altalena del punteggio, 10 punti di penalizzazione dalla procura sportiva per plusvalenze definite fittizie e trasformate in articolo 4, perché è quella sempre la base di partenza, plusvalenze. Attenzione allora, seguiamo bene l'iter e proviamo magari le differenze. Cosa è successo? È successo che ieri Aurelio De Laurentiis è andato alla procura di Roma a farsi sentire su quell'accusa della plusvalenza Ozyman che porta, secondo la procura, al falso in bilancio. Ebbene, prima differenza di trattamento, come sempre, è la solita. Il racconto mediatico delle plusvalenze della Juve, tre mesi sbattute sempre tutti i giorni in prima pagina sui giornali, addirittura in quelle politici nella cronaca, cinque, sei dei politici, e sportivi, prima pagina, con tanto di due o tre pagine interne, e De Laurentiis che va a farsi sentire alla procura di Roma per il caso plusvalenza Ozymane. Ebbene, da Gaza, filo corriere dello sport, per trovarlo andiamo. No, in prima pagina non c'è, basta un trafiletto, un trafilettino e poi rimando. In prima pagina niente, in due niente, tre, e quattro, e cinque, sei, e sette, e otto, e nove, e dieci, undici sul Corriere dello Sport e dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici sulla Gaza, che neanche i tifosi del Napoli arrivano, penso, a leggere la pagina sedici. Ebbene, al diende va la procura di Roma, l'accusa di falso in bilancio. I giornali praticamente non ne parlano, se non a pagina undici, a pagina sedici. Tranne uno, il solito, che approfondisce con tutto sport. E da metà gennaio, che sono chiuse le indagini a Roma, dopo che sono passate, ricorderete, dalla procura di Napoli, che ci ha messo un bel po' prima di dire, no, 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 ma le mandiamo a Roma, perché la sede della filma Aureli. E così, sono passati mesi, mesi, mesi. Osimène, pagato, leggo le cifre esatte, 76.356.819 euro più bonus, quindi oltre gli 80 milioni. E ci sono dentro quattro giocatori valutati, 20 milioni, la famosa prosvalenza fittizia per quanto riguarda l'accusa, di quattro giocatori, uno che era il secondo portiere carnesi e tre della primavera. Ora, la Juve e il Napoli, insieme ad altre squadre, 11 se non ricordo male, ma visto che è il parallelo Juve-Napoli, teniamo solo Juve-Napoli, la Juve-Napoli sono state prosciolte dalla procura sportiva nel 2022. Perché? Per il solito motivo, perché si è stabilito che non si può stabilire, cioè la plusvalenza, ognuno può dare il valore ai giocatori che vuole, non è dimostrabile che sia fittizia. Ebbene, la Juve perché è tornata protagonista in serie, aperto il caso, per l'inchiesta prisma della procura ordinaria, che poi abbiamo scoperto che non poteva procurare, non poteva indagare, non poteva fare niente, tant'è che hanno spostato tutto a Roma nel frattempo, quindi se avessimo fatto il procedimento del Napoli prima ordinario e poi semmai sportivo sarebbe ancora lì, forse, e poi perché c'erano nuovi documenti per aprirle, le famose intercettazioni dei mezzi, ancora non discussi in un tribunale, che sono improvvisamente diventate provate. Ebbene, chi ne se trova dei documenti nuovi e provanti, può riaprire anche il caso del Napoli. Quali possono essere gli elementi nuovi e provanti, visto che loro, a differenza nostra, non sono per anni e anni intercettati con le cimici anche sotto il tavolo del ristorante, e visto che non c'è la Consom, non c'è la Borsa, che fa la differenza, vi hanno spiegato? Eh, lo disse Kine qualche tempo fa, tipo, beh, se c'è un'intervista, se c'è una dichiarazione pubblica, no? Se c'è una novità, qualcuno che spiega la novità, basta quella, è per essere attenzionato e riaprire. L'intervista al giocatore Liguori, che dice su Repubblica, poi riportata da tutti, naturalmente, gli organi di stampa del tempo, in cui dice che Lille non l'ha mai vista, è del 14 dicembre 2021. Siamo nel 24, bastava quella, è per riaprire, volendo. La Juve viene condannata per un sistema di plusvalenze, la bella nuova invenzione dell'anno 2023, e cioè, se tu prendi una multa per divieto di sosta, la prendi, se ne prendi 5, il prendi 5. No, se ne prendi 5, io ti tolgo la patente, allora funziona così. E qui, invece, funziona. Quindi, dall'articolo della plusvalenza non dimostrabile, l'hanno messo insieme al sistema, via articolo 4. Una bella, una bella sgamata e fuoriuscita dai binari. Ebbene, allora, il Napoli ha quattro plusvalenze, i tizi della parosi mer, e quindi, più una dichiarazione, tra virgolette, da Reo Confesso, nel senso che il giocatore dice, ma chi l'ha mai vista Lille? Lui e neanche gli altri. Vediamo se il procuratore Chinè alzerà la testolina e farà qualcosa. Qual è la difesa? Perché a difesa della Juve già c'è la difesa del Napoli, ovviamente. Qual è la difesa? Vediamo. Non aveva bisogno di fare plusvalenze. Luce, bilancio a posto, peccato che nell'estate del 2020, quella lì della F.O.S.I.M.N., il bilancio era sotto di 19 milioni, ma guarda un po', la plusvalenza di 20. E poi l'anno dopo c'è il Covid anche per loro, meno 58, meno 51, insomma, tre anni di negativo di bilancio, quindi non è vera la favoletta dei bilanci in ordine in positivo. La trattativa, tra l'altro, è stata seguita da altri, avrebbe detto il patron del Napoli, quindi giuntoli, che però, peccato, non aveva potere di film. Ma poi non era lui che si vantava sempre, che giuntoli non contava niente, le faceva tutte lui. Ma è stato a Lille, sembra di non ricordare di essere mai stato a Lille della Redis, così come non sono mai stati Liguori, 4 milioni, Manzi, 4 milioni. L'unico che ha una parvenza di vivacità, perché ieri l'abbiamo visto giocare in Lega Pro, è in Tella contro Juventus e gli altri spariti. Palmieri 7 milioni e Carnesis, che era il portiere in seconda, 5,1 milioni. Nessuno è andato là. Ah, tra l'altro, giuntoli non è neanche nell'elenco degli intagati qui. Adesso capisco che lavora la Juve, quindi è comodo tirarlo in ballo dal punto di vista mediatico. E infine, la cosa più sottile, più curiosa, perché li vedo già le risposte dei signori tifosi dell'altra squadra. Noi, una roba di tifosi, una plusvalenza piccolissima nel confronto del nostro enorme bilancio, che deve essere preso esempio da tutti. Allora sappiate questa cosa qua. Ai tempi del plusvalenza della Juve, che ricordo tutti sono giocanti, ieri Mandragora ha segnato anche in Cofa Italia, la famosa carta Mandragora, super valutato, gioca nel Bologna in Serie A, segna e decide le partite. Non fa come Liguori e Manzi, che non si sa bene che tipo di carriera abbiano fatto, anche perché se andate a prendere i passaggi delle squadre, dalla prima guerra del Napoli sono scesi del calcio, che non conta fino all'esterno ai margini, e in totale fanno 20 milioni. Le nostre erano plusvalenti sui giocatori che tuttora tutti, tutti, nessuno escluso, giocano in campionati professionistici seri e sono anche giocatori determinanti per le loro squadre. Ebbene, la Juventus, di tutto quel circo del famoso sistema delle plusvalenze, queste plusvalenze riguardavano il 4,3% dei ricavi della società, dico 4,3%, queste e quelle contestate dalla Consob, perché la Juve è quotata in borsa. Il Napoli, con la sola plusvalenza di Ozyman, dei quattro famosi giocatori, quindi solo con quella a fare lì, nel suo bilancio costa l'8,7% dei ricavi, il doppio rispetto alla Juve. Quindi la plusvalenza che ha fatto al Napoli rispetto al suo bilancio è il doppio in percentuale, pesa il doppio in percentuale rispetto a quelle che ha fatto la Juve per il suo bilancio. Queste sono nel parallelismo poi le differenze finali. La Juve è stata condannata a disintegrata. Il Napoli? Chissà! Iscrivetevi al canale, un bel like al video, i vostri commenti e la campanella per essere raggiunti e raggiunte ovunque voi siete.